Oggi è martedì 31 dicembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 31 dicembre 1951. Dopo quattro anni di vita e oltre 12 miliardi di dollari erogati, termina la sua operatività il piano Marshall. Si tratta di un piano di aiuti economici a fondo perduto erogati dagli Stati Uniti per ricostruire diversi paesi dell'Europa devastati dalla Seconda Guerra Mondiale. Prende il nome da George Marshall, segretario di Stato durante la prima amministrazione del presidente Harry Truman. Marshall, generale delle forze e armate, dal 1939 e per tutta la durata della guerra è capo di Stato maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. In quel periodo è il principale consigliere militare del presidente Franklin D. Roosevelt. Divenuto segretario di Stato con Truman, il 5 giugno 1947 all'Università di Harvard tiene un discorso in cui annuncia la volontà di proporre un piano di aiuto politico-economico per la ricostruzione post-bellica dell'Europa. Il 3 aprile 1948 quindi viene approvato lo European Recovery Program, piano per la ripresa europea, che dal nome del suo ideatore passerà alla storia come piano Marshall. La Francia chiede il coinvolgimento negli incontri preparatori dell'Unione Sovietica, che dopo una prima manifestazione di interesse non partecipa al negoziato, insieme a tutti i paesi del blocco orientale e ai paesi baltici. I 16 paesi dell'Europa occidentale che ricevono aiuti li destinano all'acquisto di generi di prima necessità, prodotti industriali, combustibile e solo in minima parte macchinari e mezzi di produzione. Consiglieri economici statunitensi vengono inviati in Europa e contemporaneamente studiosi ed esperti europei visitano impianti industriali e frequentano corsi di istruzione negli Stati Uniti. In tre anni l'Italia ottiene oltre 1,2 miliardi di dollari. Soltanto Gran Bretagna, Francia e Germania Ovest ricevono più fondi. Nel 1953 a George Marshall viene conferito il premio Nobel per la pace. Il suo piano ha contribuito a far risorgere l'Europa. Ma l'obbligo di acquistare le merci americane con i fondi ricevuti di fatto lega lo sviluppo economico e le dinamiche politiche dei paesi europei al potente alleato d'oltreoceano, la cui economia beneficia dell'acquisto da parte degli europei di materiali che in gran parte sarebbero rimasti invenduti. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata! Grazie!